Fa un certo effetto intervistare Nello Cutolo che cambia il suo ruolo? Fa un certo effetto anche a me, probabilmente nei prossimi giorni mi renderò conto della scelta che ho preso però al di là di questo era un qualcosa che comunque ci ragionavo su già da qualche mese come ben sapete e penso che sia la scelta giusta fatta anche in questo momento giusto e ho approfittato perché comunque non a caso la società, il presidente ha scelto un direttore veramente importante con grandissime esperienze e lo ringrazio perché mi ha dato questa possibilità di stare al suo fianco e io ne sono onorato Inizia a fare l'apprendista però gli apprendisti poi possono imparare il mestiere bene Ah sicuramente, ecco avrò un esempio veramente positivissimo davanti a me quindi posso solo che imparare e mi impegnerò e di sicuro ecco anche se in maniera diversa speravo che mi arrivasse questa opportunità proprio qui ad Arezzo perché lo sapete cioè qui ormai è casa e quindi spero di dare il mio contributo e di far sentire anche al gruppo l'attaccamento a questa piazza Bello, tanto buona fortuna e grazie per tutto quello che hai fatto e hai dato con la maglia marata Grazie, grazie a voi e tanto saremo sempre in contatto per il bene dell'Arezzo